Oggi siete qui con questo sit-in davanti alla presidenza, cosa state chiedendo? Da quattro anni ci chiediamo tutti noi, alle nostre famiglie, perché il governo Crocetta ci ha massacrato in questa maniera e le intenzioni del governo musulmaneci quali sono? Noi chiediamo soltanto di andare a lavorare. Si è stata trovata la copertura finanziaria e ancora non siete tornati al lavoro. Sì, abbiamo pure una legge che ci doveva garantire prima, fatalità prima delle elezioni del 5 novembre e attualmente questa cosa è disattesa. Più che è disattesa la legge è disattesa il nostro ritorno al lavoro dove tantissime volte anche, e purtroppo lo devo dire, anche i personaggi che adesso sono al governo che dove non abbiamo avuto ancora nessun riscontro. Prima del 5 novembre erano tutte cose pronte per poter partire. Ora, dopo due mesi e mezzo dall'insediamento di questo nuovo governo, ancora risposte non ce ne sono state date. Abbiamo chiesto anche in assessorato, perché il nostro assessore di riferimento è l'assessore alla famiglia, ma purtroppo dobbiamo dire che non c'è stato nessun incontro. Siamo gente riqualificata alla Regione Sicilia con una norma, soldi del bilancio regionale e a giudizio del dirigente generale abbiamo altri 60 milioni del Fondo Sociale Europeo, il progetto REI, di cui ci potremmo occupare e il Presidente della Regione per la seconda volta ci lascia qua. Io vorrei dire solo questo al Presidente Musumeci, ma siamo ritornati al governo Crocetta, Presidente Musumeci. Grazie a tutti.